Ciao a tutti, io sono Alessio Ciro, responsabile vendite della Stocca Italia. Oggi siamo allo Stocca Store di Milano per presentarvi Sleepy, l'unico lettino 4 in 1 che cresce con il bambino. È proprio la capacità di Sleepy di trasformarsi ed evolversi che rende il lettino unico nel suo genere. Ad oggi molti genitori sono obbligati ad acquistare diversi lettini in base alla crescita del bimbo. Dalla culla al lettino tradizionale e al lettino 170. Con Stocca Sleepy e di relativi kit di estensione potrete seguire la crescita del vostro bimbo dai 0 ai 10 anni. Passiamo a scoprire perché la nostra Stocca Sleepy è la soluzione ideale dalla nascita fino ai 6 mesi. Spesso l'avete vista su Instagram, la sua forma ovale è un vero tratto distintivo che oltre a renderla un pezzo dal design unico, ha l'obiettivo di offrire al bambino un ambiente raccolto ed accogliente che ricorda la forma di un nido. Nessun bordo e nessun spigolo, diversa dai classici lettini rettangolari. Le altre caratteristiche che rendono funzionale e unica nel suo genere sono le dimensioni ridotte e le ruote più rettanti dotate di freno che vi permettono di spostarla comodamente da una stanza all'altra e avere sempre il vostro bambino con voi. Sicurezza e comfort grazie al comodo materasso ipoallergenico e alla struttura traspirante che garantiscono la massima sicurezza e ventilazione durante il sonno del bambino. Infine, un dettaglio che viene spesso trascurato nella scelta dei prodotti che acquistiamo per i nostri bambini è la sostenibilità. Stocche Sleepy è realizzato il legno di faggio provenienti da selvicolture europee a rinnovazione naturale. Tutti i nostri tessuti, inoltre, sono certificati e realizzati in cotone organico e biologico. Quando il bambino avrà circa sei mesi, sarà il momento di trasformare la nostra culla in lettino 120. In questa fase sarà possibile regolare l'altezza del materasso così da avere in un primo momento il materasso alto permettendovi di posare il bambino in sicurezza e senza faticare la schiena. Quando il bimbo sarà in grado di alzarsi in piedi da solo potrete spostare il materasso in basso così da garantire la sicurezza. Poi il bambino raggiungerà quella fase dello sviluppo in cui si arrampicherà dappertutto spinto dalla curiosità generalmente verso 18 mesi. Potrete togliere una delle sponde in questo modo in modo che il bambino possa salire e scendere agevolmente e in coperta autonomia e indipendenza. Ricordate che in questa fase è necessario rimuovere le quattro ruote e abbassare il ripiano nella posizione inferiore. Anche se a volte dispiace un po', i bambini crescono in fretta. In modo semplicissimo, con il kit estensione junior potete trasformare lo stock Sleepy in un letto da ben 172 cm. In questo modo, Sleepy non sarà solo un luogo del riposo per il tuo bimbo ma anche un divano e una comoda zona per giocare. Ora sapete perché più di 20.000 famiglie hanno scelto di acquistare il lettino stock Sleepy perché con un unico acquisto potrete seguire la crescita dei vostri bimbi dalla nascita ai 10 anni. Grazie a tutti i nostri spettatori